Buongiorno da mattino 6 per questo Venerdì 24 marzo, oggi si ricorda San Romolo Andiamo a vedere i titoli di apertura dei quotidiani Iniziamo dalle pagine del centro Nelle cronache dedicate alla provincia di Pescara In apertura bimbi violentati Paese sconvolto, San Giovanni Teatino Da genitori e bambini accuse al loro allenatore di baseball Nel campo degli orrori, abusi sessuali sotto gli spalti E poi all'interno la proposta al Movimento 5 Stelle Di Maio lancia il referendum sull'euro Primario a Milano rompeva femori per mettere protesi arrestato E poi le primarie PD, oggi il capogruppo Rosato In regione per spingere Renzi Pescara aeroporto, piano industriale Da 1,2 milioni di passeggeri Le cronache, arrestato lo spacciatore della Movida E ancora sequestrate le armi nascoste tra i giocattoli Ancora Pescara minacciate in treno da un folle L'incubo di tre parrucchieri, l'aggressore solo denunciato Jennifer, il PM, chiede il giudizio immediato Di taglio alto Europa, sotto scacco Londra, l'ISIS rivendica l'assalto al Parlamento Ancora terrorismo L'Abruzzo si difende, misure di sicurezza contro gli attentati Il centro nelle cronache dedicata alla provincia di Chieti San Buono sbanda e finisce fuoristrada Muore a 32 anni E poi niente, Megalot 2 arriva allo stop della regione Diritti e omofobia A scuola arriva la Digos Studenti identificati a Lanciano Durante la protesta al Fermi E poi sempre a Chieti Ecco il ladro mascherato pronto al maxifurto Provincia di Teramo, calamità e aiuti Il decreto è migliorato ma non basta E poi l'effetto sisma Roseto al liceo più iscritti dall'entroterra In Val Vibrata, sesso in cambio della droga Madre e figlie abusate per anni Denunciato lo spacciatore Tagli alla festa, a splendore Sparisce il pranzo col vescovo Le cronache di L'Aquila Campagna social dei candidati per le comunali E poi in trodacqua, crollo Pallasport L'ex sindaco dice Fecio la denuncia A Vizzano, donna ferita dallo scippatore Violenza in pieno centro Sospetti su giovane immigrato A Scano, tanta folla per l'ultimo saluto Al maestro di sci Titoli di apertura del quotidiano Il messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo Jennifer, il killer a giudizio La procura di Pescara ha chiesto il processo immediato Per Davide Troilo L'uomo accusato di aver ammazzato a coltellate L'ex fidanzata il 2 dicembre Rischia l'ergastolo Avezzano, vittima della crisi A 60 anni Lavoro non c'è più E lui si uccide Droga e armi Così cambia la mala pescarese Due maxi sequestri Di polizie e carabiniere La scoperta di un nuovo arsenale E allarme Di spalla Pirozzi Sindaco mister Denuncia Proviamo a ricollegarci Allora in apertura Visto che sulle cronache Si parla proprio di quella che è stata Un'operazione portata a termine Da un lato dai carabinieri Si parla per iniziare Di quello che è stato Un arresto Sempre per detenzione di stupefacenti Allora iniziamo proprio da questo servizio Di Paolo Renzetti Sarebbe stato il fornitore di droga Ed in particolare cocaina Della pescara bene Questo il sospetto dei carabinieri Del nucleo investigativo Del reparto operativo Della compagnia adriatica Che nell'ambito Dell'operazione denominata Double Fas Hanno tratto in arresto Per detenzione Ai fini di spaccio Di sostanze stupefacenti Ed evasione dai domiciliari Un 58enne di Villa Raspa Di Spoltore Il coccio di ferro E fra l'altro Anche in ragione Della sua età Della sua età anagrafica È una vecchia conoscenza Sia dei consumatori Ma anche di chi Poi si occupa Di reprimere I fenomeni di illegalità La sua recidività Di queste condotte Dimostra ulteriormente Quanto sia redditizio L'operare in questo mercato È ovvio Chi l'assuntore di stupefacenti Che magari ritiene Di essere Nella parte sana Della società Nella parte buona Della società Non fa altro che Attirare interessi criminali Di un certo livello A casa propria Ancora sulle pagine Del messaggero Pirozzi Sindaco mister Spiega le macerie Del terremoto Martinsicuro Nel paese vicino Agli sfollati Il libro sul calvario Di Amatrice Di taglio alto Verso l'estate Mare più pulito A Pescara Migliora anche Via Balilla A Teramo Il teatro riparte Manotesa Del nuovo gestore Alla Riccitelli L'Aquila agonia Di una montagna Gran sasso Strade bloccate Dopo le slavine Colpo al turismo E poi titoli di apertura Del quotidiano La città Il decreto sisma Ecco tutte le novità Cratere allargato Danni indiretti Neve frane Scuole E tanto altro Adesso la palla Passa al Senato E poi forzature Sulla casa dello studente Il caso Dall'interno dell'Ateneo I corvi Recapitano Alla città Gli atti con tutti I rilievi mossi In Senato contro l'operazione E di taglio basso Intanto la ricostruzione Al palo Progetti e cantieri fermi Per una serie Di buchi normativi Incidente di Basciano Diana è morta A causa di un malore Del papà E poi a tortoreto Militare indagato Si scava Nei clan albanesi La scoperta Dipinti gemelli Appenne E Teramo Di taglio alto Giulianovalo Scarica barile Sui disastri Di parchi E verde pubblico A Roseto Due consiglieri Passano con il gruppo Orlando Ancora Roseto Impianti sportivi Pronti per fine anno Iniziamo a vedere I titoli di apertura Dei quotidiani nazionali Iniziamo dalle pagine Di La Repubblica Il killer Di 52 anni Pronti altri attacchi Londra L'assassino Un cittadino britannico Già sospettato Rettata della polizia Tra i complici Otto arresti A Birmingham L'Isis Rivendica l'attentato Khalid Era un nostro soldato E poi l'allarme in Belgio Un uomo lancia l'auto Sui passanti I titoli di apertura Del quotidiano Il tempo Chi ama Roma Sta con la polizia Capitale assediata Cresce la paura Per i cortei Di domani Dei black bloc E dei centri sociali Aiutiamo le forze Dell'ordine Perché dilaga Il partito Che difende i teppisti Smascheriamoli E poi via Vitalizzi Casta pronta Con i ricorsi A centropagina Ermonnezza Senannato Muore Thomas Milian Aveva 84 anni Interpretò il mitico Ispettore Giraldi Titoli di apertura Del messaggero Cortei di Roma Sfida di Minniti Linea dura Con i violenti Il colloquio Trattati allarme Per fondamentalisti E black bloc Vietati camion E furgoni In centro E poi si chiamava Khalid Masoud 52 anni Blitz a Birmingham Presi i complici La stampa La cellula Di Birmingham Il terrorista 52 anni Era segnalato Agli 007 8 arresti Preparavano altri attentati Isis rivendica L'attacco di Londra L'orgoglio della May Non ci facciamo intimorire Un'allerta in Europa Detective Di Scotland Yard Al Viminale Per il comitato Sull'ordine pubblico Prima del summit Di Roma Il fatto quotidiano Londra Il killer Era un altro Jihadista Noto ai servizi Sotto attacco L'Isis rivendica Paura In Belgio Ancora un'auto Sulla folla E poi Furbi Minzo Sbeffeggia Il senato Non si è ancora dimesso Lo aveva promesso Una settimana fa Prima di essere salvato Dalla decadenza Il giornale Contagio Contagio Jihadista Un terrorista Tira all'altro Mentre l'Isis rivendica La strage di Londra Un magrebino Cerca di investire I pedoni Ad Anversa L'Europa è sotto attacco Ma non arresta Gli islamici Radicalizzati Per Roma è allarme rosso Rischi alti Troppi Sei Cortei Il libero titola Roma La parata dei peggiori La capitale Domani In stato di assedio I leader europei Si ritrovano Per celebrare Litigando Il funerale Dell'Unione Europea Per l'occasione Sono attesi 30.000 violenti Pronti a menare le mani Non si esclude L'intervento Di qualche pazza Tentatore islamico Eppure La raggi Torna Dalla montagna E poi Quando il dottore Ti tradisce Il medico Che rompe I femori Per esercitarsi L'unità Chi alza muri Aiuta l'isis Nell'emarginazione sociale Nella discriminazione Crescono i lupi solitari Del terrorismo La stragrande maggioranza Dei musulmani Europei E respinge I seminatori Di odio L'avvenire No all'utero In affitto Ora si muova L'ONU Appello di donne Non solo Di vieto mondiale E poi nato In Gran Bretagna Il terrorista Di Londra Il mattino Flop 007 Il terrorista Era schedato Il premier May Dice Musulmano Nato nel Kent Con precedenti Ma per i servizi Era marginale L'isis Rivendica L'attacco a Londra È un soldato Del califato Arretato a Birmingham 8 arresti Preparavano Un attentato La gazzetta Del mezzogiorno Titola Roma Città Aperta e chiusa Pronta la bozza Per la nuova Unione Europea Ma la Polonia Forse non firma L'isis Rivendica L'attentato a Londra Il killer Era un britannico Noto Agli 007 La verità Il giglio magico Si allarga Anche l'acqua Diventa renziana La regione Abruzzo Guidata dal PD Il cui governatore È indagato per Corruzione Turbativa Dasta Revoca la concessione Di una fonte E l'assegna Un gruppo presieduto Dall'editore Dell'unità E poi La cittadinanza È lo scudo Dei terroristi Molti paesi Non possono espellere I sospetti Jihadisti Noi sì Ma vogliamo Rinunciare A quest'arma Ora iniziamo A sfogliare Le pagine Del quotidiano Il centro In apertura Allo sport E le violenze Bimbi di otto anni Abusati Dai genitori E dai piccoli Le accuse Contro l'allenatore Di baseball Arrestato Il PM Ha dichiarato Li portava nel bar Sotto gli spalti Del calmo Con la scusa Di offrire una bibita Dopo gli allenamenti L'indagine L'indagine è partita Dalla denuncia Della mamma Di un bambino Che ha raccontato Quello che avveniva In albergo In occasione Delle trasferte Della squadra Gli accertamenti Sono stati svolti Dalla seconda sezione Della squadra mobile Di Chieti Ma la prima segnalazione È partita Dal posto fisso Di polizia Dell'ospedale E poi il precedente È finito Sotto inchiesta Già sei anni fa Ma allora Il caso Venne archiviato Quasi uno di famiglia Un amico molto presente Che andava alle feste Di compleanno Dei bambini E portava sempre un regalo Una persona a modo Insomma E mai La mamma Che ha denunciato Il caso alla polizia Avrebbe potuto pensare Che un giorno Quell'uomo Sarebbe diventato Il suo peggior incubo Ora Le famiglie dei bambini Che frequentano O frequentavano La scuola di baseball Cominciano a porsi Un sacco di domande E anche la procura di Chieti Visto che la polizia Sta acquisendo Una serie di testimonianze Per verificare Sperando di smentire E a proposito Di denunce Un'altra Sempre nei confronti Dell'allenatore Era stata presentata Nel 2011 La macchina giudiziaria Di fronte A fatti gravi Come quelli segnalati Si era messa in moto Ma dopo qualche tempo Nel corso Di un incidente probatorio La testimonianza Dei bambini Che avevano riferito Quelle strane carezze Non fu ritenuta attendibile Va da sé Che il procedimento Fu naturalmente Destinato all'archiviazione Arrivata Senza che trapelasse Nulla all'esterno E ora Quei ragazzini Sono cresciuti Probabilmente maggiorenni Visto che allora Sono passati sei anni E chissà come hanno vissuto Questi sei anni Questi giovanissimi adulti Le mamme Che si sono rivolte Alla polizia Qualche settimana fa Non erano a conoscenza Degli avvenimenti Denunciati nel 2011 Che di fatto Per la legge Non sono mai avvenuti Dal momento Che tutto È stato archiviato E poi sempre San Giovanni Teatino Sconvolta Il sindaco Denunciate E rivolgetevi Allo psicologo Marino ci lancia Un appello Ai genitori E un padre Esce subito Allo scoperto La polizia Il campo di allenamento Con i genitori Dice Cerchiamo altri casi E poi Un altro caso Sesso in cambio Di un ruolo da titolare Quattro giorni fa Torino Due allenatori Al centro dell'indagine Per pedo Pornografia E violenza sessuale L'Europa sotto attacco Londra Killer inglese Lise rivendica L'attacco È un lupo solitario Noto ai servizi Controllato Ma ritenuto marginale La premier May Ha detto Non abbiamo paura Otto arrestati Preparavano attentati E di taglio basso Il vampiro Venuto dalle tenebre Khalid Masoud Era di Birmingham Covo di un decimo Degli jihadisti Del paese Ancora si lancia Con l'auto Sulla folla È stato catturato Ad Anversa Un'auto A tutta velocità Nella via Pedonale Principale Di Anversa Il celebre Mayr Tempio dello Shopping Inseguita dai militari E poi bloccata Dalla polizia Senza vittime Ne feriti E poi Aisha Corriva dalle figlie Kurt In vacanza Dagli Stati Uniti Queste sono le vittime Quattro le vittime Ieri è deceduto Uno dei feriti Sei sono ancora In gravi condizioni Lotta per sopravvivere La ragazza Sbalzata Nel Tamigi Ricoverata invece Una turista romana L'Italia è in allerta Il Viminale Rafforza i controlli Il ministro Minniti Punta sull'intelligence Per prevenire attentati E Roma Si blinda Per domani E poi Il monito Della CEI No muri a populismi Che si nutrono Di paura L'Abruzzo Si difende A Gentimborghese Nelle aree affollate In piazze Isole Pedonali Sono state lasciate Le barriere in cemento Dopo l'attacco di Berlino E all'aeroporto C'è l'esercito Il questore Misiti Ha detto La città è vive Reattiva Ma non rileviamo Allarme sociali Il questore De Simone Ha detto Allerta massima Serve la collaborazione Di tutti E poi c'è il piano Di prevenzione Pescara si protegge Con 15 pattuglie E 300 agenti A Teramo Vigilanza rafforzata In stazioni e chiese Sono sorvegliati I raduni Gli obiettivi sensibili A Chieti in provincia L'attività di intelligence Supporti E centri commerciali Il questore Palumbo Dice controlli Anche sul deep web Per monitorare La rete E controlli Anche nell'Aquilano I sorvegliati speciali Sono telespazio E i laboratori Del Gran Sasso Il dirigente Della Polizia Ha dichiarato Le forze in campo Al momento Sono sufficienti Trattati Dell'Unione Europea All'Europa All'appello Manca il sì Di Grecia E Polonia La vigilia del vertice I premier Tsipras E Sidlo Minacciano Di non firmare Ultimi sforzi diplomatici Per arrivare A un testo condiviso Quattro I punti In agenda Accordo Sull'Unione Ma le diverse velocità Non convincono I paesi dell'est E il linguaggio Va sfumato E poi Gli euroscettici Di Maio Referendum sulla moneta Il libro dei 5 stelle Per contestare Le politiche Dell'Unione Europea Salvini dichiara Protesto A Lampedusa E poi Renzi Sfida Bersani Sul Mattarellum Hai sempre chiesto Quella legge Oggi Che ti penalizza Che cosa farai Dal DL Terremoto Risposte concrete Per gli abruzzesi Il capogruppo Del PD alla Camera Ettore Rosato In Regione Per sostenere Renzi I sondaggi Ci danno morenti Capitò anche All'Europei E arrivamo Al 40% Se fossi stato senatore Avrei votato A favore Della decadenza Di Minzolini Per la legge elettorale La nostra proposta È il ritorno Al Mattarellum E poi Le ho rotto Il femore Per fare allenamento Primario agli arresti Con falonieri Lavorava Alpini di Milano In una casa di cura A mazzette Su protesi E danni ai pazienti Nelle intercettazioni Le pensioni Presto I decreti Poletti In contra I sindacati Partenza maggio Resta il nodo Dell'Ape Social Il bilancio 2016 Telecom Inutile Per 1,8 miliardi Ed è sfida Sulla fibra L'aeroporto Sia al progetto Da 1,2 milioni Di passeggeri L'assemblea Dei soci Approva L'aggiornamento Del piano industriale Fino al 2038 Fatturato costante Maggiore operatività Taglio dei costi E la dibiase Entra nel CDA E ieri C'è stato L'incontro Dei vertici Dei vertici Della saga Con un CDA Dedicato proprio Al piano industriale Allora Ci siamo fatti raccontare Tutti i dettagli Dal presidente Nicola Mattoscio Vediamo Primo piano industriale Per la società Aeroportuale Saga Era prevista Per oggi Infatti La seduta Con i consiglieri Di amministrazione Per l'approvazione Del documento Che detterà Punto per punto Ogni azione Da mettere in campo Fino al prossimo 2020 Voglio sottolineare Che questa è una società Che non aveva mai avuto Fino all'anno scorso Un suo piano Industriale Sessolo dato Ha comportato anche L'impegno A doverlo monitorare Frequentemente Perché La mancanza Di esperienza Implica Che Da un monitoraggio Poi continuativo Si possano anche Apportare i miglioramenti Allo stesso piano industriale Questa è la regione Per cui oggi Si va Un aggiornamento Di questo Importantissimo Strumento Di pianificazione E a tempo stesso Di governance Razionale Efficace Della stessa società I principali contenuti Sono che La definizione temporale Del piano industriale Con questo aggiornamento Viene steso All'intera durata Del periodo Di concessione E quindi Al 2038 E al tempo stesso Per necessità Relativamente Alla consapevolezza Alla possibilità Di incisione Protempore Di chi ha responsabilità Il piano industriale Viene anche definito Nel medio periodo E cioè Sulla lunghezza d'onda Del 2020 Con dettagli adeguati Per prendere decisioni Di giorno in giorno Di settimana in settimana Di mese in mese Da punto di vista Dei contenuti Voglio sottolineare Che E con questo strumento Finalmente Si dimostra Che l'aeroporto Internazionale D'Abruzzo A partire dal Medio periodo Può Contare Sulle proprie gambe E quindi Dimostra Che la propria Mission D'impresa È Autosostenibile A Pescara Spaccio Sulla riviera Sotto sequestro La droga Destinata Alla Pescara Bene I carabinieri Arrestano 58enne pescarese Che contattava I clienti Su Facebook Come abbiamo visto Nel nostro Precedente servizio E nella stessa giornata Il blitz Arrancitelli Nelle baracche Due fucili Nascosti Tra i giocattoli La polizia Scova le armi Alle spalle Delle case popolari Di Via Lago Di Capestrano Sono state modificate E risultano Molto pericolose Accertamenti Tecnici In corso E allora Ieri Nella stessa giornata Anche un'altra Operazione Delle forze Dell'ordine In questo caso Vediamo il servizio D'Alfredo Primante Droga e armi Sottoposte a sequestro E un giovane pescarese Arrestato E questo è il bilancio Di una duplice operazione Condotta dai poliziotti Della sezione Antirapine E della sezione Antidroga Della squadra mobile Della questura Di Pescara Insieme ai colleghi Della squadra mobile Di Chieti In carcere E finito un 33enne Su disposizione Del PM Della procura Di Pescara Silvia Santoro In un garage Il ragazzo Di Montesilvano Nascondeva 924 grammi Di cocaina E 800 grammi Di marihuana In un secondo blitz Condotto invece A Pescara Nelle case popolari Di Via Lago Di Capestrano I poliziotti Hanno sequestrato Un fucile Semiautomatico Calibro 20 A Cannamozza Risultato poi rubato E una potente carabina D'aria compressa Munita di cannocchiali Di precisione Sulle armi Sono in corso Accertamenti Sulle armi Noi stiamo lavorando Stiamo ancora Aspettando gli esiti Della polizia scientifica Speriamo che ci siano impronte Oppure tracce di DNA Sulla droga Aspettiamo L'esito Oppure degli analisi Riteniamo Che comunque sia droga Di Diciamo Un principio attivo Elevato E riteniamo quindi Per questo Che la persona Arrestata Forse un mero custode Della droga Per conto terzi Ancora cronaca Sulle pagine del centro Ambulanza In veste Due quattordicenni L'incidente a Roma Il mezzo arrivava Da Pescara Ferite lievi E paura Per le due ragazze Che state sarà Mare pulito Dal 2018 I ricorsi Ritardano Nei lavori Il presidente Del CDA Dell'ACA Luca Toro Svela progetti E scadenze Dell'azienda Slitta Il potenziamento Del depuratore Pescarese E tra un mese Tocca a Montesilvano E poi dati favorevoli Anche via Balilla Migliore Incoraggiante L'esito Del secondo Monitoraggio Dell'Arta Sulla balneabilità Bene anche I test Sul fiume La diga foranea Si decide Il prossimo 31 marzo Vertice in regione Per fissare I tempi Dei lavori E far ripartire Le attività Del porto Il terrore Sul treno Prigioniere Di un pazzo Per 20 minuti Viaggio da incubo Per tre parrucchiere Pescaresi Minacciate di morte Con una bottiglia Rotta Da uno sconosciuto E poi Il nuovo tracciato La pista ciclabile Ora tocca a rosso Il inviale d'annunzio Il bike Red carpet E l'assessore Dice avanti Così Jennifer Per processo A tempo di record Il PM Chiede il giudizio Immediato La difesa Sceglie il rito Abbreviato Per evitare L'ergastolo Di sequestrata La casa Del delitto E poi cerimonia Con le associazioni Per fronteggiare Le emergenze Arrivano i kit Da primo soccorso Domani La consegna Di coperte Termiche Tute E prodotti Per l'igiene Compie 100 anni La più anziana Ex alunna Del liceo classico L'ex insegnante Ha spento le candeline Davanti al sindaco Il marito avvocato Si occupò Della tragedia Del vaillant Corso di cucito E vendita Per le donne Senza lavoro Francavilla Il laboratorio Di sartorie Organizzato Dall'associazione Emozioni Vogliamo aiutare I disoccupati E provare A restituire Loro Dignità E speranza E poi Assistenze Disabili Domande Fino al 30 Spoltore Progetto Home Care Premium Rivolto A dipendenti E pensionati Del comparto Pubblico Montesilvano Operazione Della squadra Mobile Due chili Di droga In garage Arrestato Giovane Pescarese Custodiva In via Verrotti Un carico Di cocaina e Marijuana Spaccio Perché sono Senza lavoro La dichiarazione Il 33enne Ha spiegato Di essere diventato Un corriere Della droga Spinto da necessità Economiche Dopo aver perso Il posto Come custode Ladri In azione Traditi Dalla luce Delle torce Due tunisini In manette Stavano svaleggiando Una casa In via Tanaro Ma Da fuori Si sono visti I bagliori E poi Serata rock I com Di solieri Suonano vasco Oltre alla musica Il weekend Propone Sfilate Di cani da adottare Festa di primavera E clown A città Sant'Angelo Rapina la banca Con la pistola Giocattolo Un finto operaio Si fa consegnare 18.200 euro Dal personale Dalla popolare Di Bali Di Viale Petruzzi E fugge A piedi Partiti Partiti i lavori Dello svincolo Su via Togliatti Montesilvano L'opera Va completata In 60 giorni Dirotterà il traffico In uscita Dalla tangenziale E poi Rifiuti In consiglio Le nuove tariffe Montesilvano L'assise Oggi Discuterà Anche del semaforo Con fototrappola Andiamo avanti Il territorio A rischio La frana Di Collalto In arrivo 400.000 euro Penne La regione Assicura Il contributo Per fermare Il dissesto Idrogeologico Che divora La frazione E minaccia La diga Appenne Batterio sconfitto L'acqua Torna potabile Il via libera Dopo una settimana Di lavori di bonifica Nella condotta Che serve Centro E ospedale Progetto presentato Appenne Gli studenti Del liceo Alle prese Con un museo Virtuale A chiedi Il nuovo Ipermercato Non si farà Lo stop Per il megalo 2 Il parere Negativo Del comitato Via Per la commissione È improcedibile La ditta Va al controattacco Il progettista Domenico Merlino Ha detto Ricorreremo certamente Al Tar E chiederemo Anche i danni All'Aquila Maltrattamenti In famiglia Aggredisce la moglie Il giudice Lo caccia di casa Nei guai Un uomo accusato Di percosse Commesse davanti Ai tre figli E un altro caso Per seguita Coppia di anziani Nel condominio E un cinquantenne Finisce ai domiciliari E poi alla finanza Non si assegnano Il map Medico presenta Non gli assegnano Il map E un medico Presenta Un esposto Bando Fare centro Appello per il sociale Conf cooperative Non solo commercio Ma anche persone e famiglia Nel rilancio Della città E poi ecco Le campionesse Dell'artigianato Rose I nomi delle donne Premiate dalla CNA All'iniziativa La cantante di Michele E la giornalista De Usanio Teramo Dramma in Val Vibrata Mamma e figlia Violentate per anni Da uno spacciatore L'uomo chiedeva Rapporti sessuali In cambio dell'eroina Arrestato dopo la denuncia Delle donne Incidente probatorio Davanti al giudice Per raccogliere La testimonianza Delle vittime E poi la bimba morte Il papà non ha colpe Il PM chiede l'archiviazione Si schiantò Con l'auto Contro un tir Per un malore Effetto sisma Picco di iscrizioni Al Zaffo Roseto Molti nuovi allunni Vengono dall'entroterra Stabile il Moretti Regge grazie Ai tanti Ricorsi Noi ci fermiamo Per una piccola pausa Adesso spazio Alle previsioni Di Luca Mennella Tra poco Seconda parte Della nostra rassegna stampa Ci spostiamo Sulle pagine del messaggero Scatata l'inchiesta Sul bimbo autistico Rifiutato Da tre scuole Lanciano sul tavolo Del PM vecchi La denuncia Della mamma L'avvocato dice Palesi reati Di omissione Di atti d'ufficio E abuso Dopo aver ricevuto Tutti gli atti Sulla delicata storia Il magistrato È pronto a ordinare I primi accertamenti E poi parla La signora Rita Dice Io abbandonata Non sono pazza Tutelo mio figlio La donna Ripercorre l'intera vicenda Nessuna spiegazione Per l'iscrizione Online Scegliere un istituto Idoneo È un diritto Buoni esempi Confindustria Fascuola La fusione Chieti-Pescara L'accorpamento Tra le due unioni Territoriali Diventa un caso Grazie al premio Adriano Olivetti Il direttore Luigi Di Giosaffatti Ha detto Abbiamo indicato Un esempio Di efficienza Alle istituzioni E poi Nuovo ingresso Nel consiglio Della saga Roberta Di Biase Prende il posto Di Ricci Fondi UE Ok L'Abruzzo Per il ciclo 2007-2013 A pescare Il processo Immediato Per Davide Troilo Chiusa L'inchiesta Sull'uomo accusato Di aver ammazzato A dicembre scorso L'ex fidanzata Jennifer Sterlechini La procura Dice evidenti Le prove di omicidio Pluriaggravato La difesa Chiederà il rito Abbreviato Per evitare L'ergastolo La porta era chiusa E lei gridava Aiuto mi sta ammazzando La testimonianza decisiva Della mamma Della vittima Ricostruzione parziale Il PM Silvia Santoro Non ha ritenuto credibile Il racconto Dell'imputato E poi La famiglia della vittima Dice chiediamo Solo Si è fatta giustizia Il compleanno E la targa In memoria Di spalla Rigopiano I dati del RIS Nelle mani Dei periti Per la tragedia In un fascicolo Telefonate Ed sms Oggi In Val d'Aosta Un'esercitazione Ricrea Lo scenario Di quel disastro E poi La mala scatenata Due furti Sventati Rapinata La banca Ladra Ciuffata Geriatria Dagli infermieri A vuoto Il colpo In una villa Presi due Tunisini L'insospettare L'insospettabile Tra i giocattoli E dannosa Dice il centrodestra Che presenta Centis Ha dichiarato Prendiamo atto Del decreto Dei giudici Amministrativi E faremo Il possibile E poi Verso le elezioni Salvini Insiste Per Deramo Forza Italia Punta Tinari Strade bloccate Il gran sasso Muore Ancora non rimossi Legnami E detriti Portati a valle Dalle slavine Originate Dalle scosse Sismiche Di gennaio Restano Inaccessibili Luoghi fondamentali Per il turismo Come Monte Cristo E il santuario Di Giovanni Paolo II La provincia Non interviene Impedisce Che lo facciano Altri Operatori Economici Allo stremo E poi Storia Qui là Nei campo Imperatori Il sogno Del casino Quando il sindaco Auspica Per i turisti L'atmosfera Sul gran sasso Del 1936 Una monumentale Edicola Del 400 Gioiello Dentro Santa Maria Del Ponte La piccola Chiesetta Protagonista Delle giornate Del file Che ricordiamo Saranno aperte Proprio in questo Weekend La città Torna Capitale Del patinaggio Con i mondiali Master di maratona La manifestazione Parteciperanno Oltre 500 Atleti Non trova Lavoro Operaio Si uccide Un sessantenne Di capistrelle Era tornato a Bologna Per riprendere servizio In un cantiere Ma ha scoperto Che non c'era più posto Per uccidersi Ha utilizzato I gas di scarico Della sua auto I conoscenti Hanno detto Era disperato Aveva provato Dappertutto Aveva già tentato Il suicidio Tempo fa Per la stessa ragione A Sulmona Tasse nel mirino I bed and breakfast Nel mirino Del comune Chi gestisce Una struttura Ricettiva In forma familiare E poi A Pescasseroli La faggete Siano Patrimonio Dell'umanità Il presidente Della comunità Del parco Di Santo Plao Dall'impegno Della regione E ad Avezzano Elezioni Cresce Il fronte Anti di Pangrazio Giudo Marsicani Sugli scudi In Umbria Vince Vernile Acchieti Regali Costosi E bevande Gratis Così l'allenatore Ci ha descato I racconti shock Dei ragazzini Abusati Violenze Nel bar Del campo E in hotel Papà Non voglio più Tornare a baseball La squadra mobile Cerca altre vittime Oggi L'interrogatorio Davanti al GIP Indagini scattate Dopo che gli atleti Si sono parlati Tra di loro E poi Genitori Insospettiti Dagli sbalzi D'umore Dei figli Gli accertamenti Vanno avanti Su pc E cellulari L'Ateneo Decapitato Sospensione De Carolis Il Senato Chiede lo stop Proposto anche Il pensionamento Anticipato Per il DG Del Vecchio Il professor Vacca Incontra Gli studenti E' stato bocciato Megalod 2 Esultano negozianti Ambientalisti Il braccio di ferro Va a monte La costruzione Di Megalod 2 Ieri pomeriggio Il comitato Via Della regione Ha dichiarato Improcedibile Il progetto Presentato Dall'asile Costruzioni E che prevedeva Peraltro La riduzione A 24.000 Metri quadri Dall'area Sulla quale Edificare Il parco Commerciale Ribattezzato Mirò Esce fuori strada E muore Un giovane Troppo gravi Le ferite Riportate Nell'incidente Sulla Fondovalle Mirko Zengaro Di Rocca Spinalveti Ha perso Il controllo Della panda Il 32enne Mentre si recava Avvasto E' finito In una cunetta Sul lato opposto A quello di Marcia L'allarme Degli automobilisti Il ragazzo Era anche tesserato Con la squadra Della Dinamo Nel campionato Di terza Categoria Avvasto Picchi e genitori Per soldi Per la droga E viene arrestato Protagonista Della vicenda E' un 24enne Di Pollutri Che ora deve rispondere Di maltrattamenti A Urtona Centrodestra Il candidato E' Polidori A sostenere L'avvocato Forza Italia Udc E alcune liste civiche E a Lanciano La fiera dell'agricoltura Un record Di espositori A Teramo Il teatro comunale Il nuovo gestore Invita la Riccitelli A collaborare Appello condiviso Anche dal sindaco Brucchi Non è certo Il tempo Di chiudersi a Riccio Ci sarà anche L'attrice Teramana Deusanio Previsti sconti Per studenti E docenti La direttrice Coccagna Ha dichiarato Spazio disponibile Anche a musica Danza e lirica Per ripartire E poi Economia Area Di crisi Ci sono segnali Di sviluppo Nella provincia Il meeting 10.000 alpini Domenica In arrivo A Isola del Gran Sasso E la procura Morte di Diana Dice il papà Non c'entra La causa Un malora La guida Sfrattati i mezzi Della protezione civile Il centro commerciale I portici Non li vuole più all'interno Del triste e vuoto Sotterraneo Della struttura Ma non così La citigas Il sindaco Mastromauro Dice in qualità Di capo della sicurezza Invita a non rimuovere nulla Altrimenti Interverrò Con ordinanza Numerosi titolari Dei negozi Si dichiarano Solidali Con i volontari A Roseto Impianto Computer Malfunzionante Dirigente scolastica Del Moretti Nei guai La Corte dei Conti Chiede il risarcimento Di 50.000 euro Dopo la segnalazione Del Consiglio d'Istituto Ci spostiamo Sulle pagine Del quotidiano La Città In apertura La bocciatura Dell'ampliamento Di Megalò 2 Il Comitato Via dice no Alla richiesta Di proroga Della concessione Che scade Il prossimo 10 aprile La protesta Davanti agli uffici regionali Dove si stava svolgendo La riunione Del Comitato C'è stata Una manifestazione Di protesta Della Confcommercio Regionale Contro l'ampliamento Del centro commerciale Che avrebbe causato La chiusura Dei piccoli esercenti E poi a Pescara Droga E armi Sequestrati Nel doppio blitz Della polizia La strada Dei parchi Sciopero strumentale Nessun licenziamento E nessun casello chiuso Il gestore Chiarisce Nei sette caselli Dove è stato tolto Il turno di notte Passano a malapena Trenta mezzi L'emergenza Sisma Neve e frane Con le novità Inserite nel decreto Sisma alla Camera Sanati alcuni Degli errori Del testo governativo Altre possibilità Di miglioramento Possibili al Senato E poi di Teramo Brucchi Resta comunque Insoddisfatto Il primo cittadino Critico Sul cratere E i sostegni All'economia I tre parlamentari Teramani Soddisfatti Dalle modifiche Tommaso Ginobile Giulio Sottanelli E Paolo Tancredi Oggi al Delfico Per il progetto Della casa Della casa Dello studente Ancora sulle pagine Della città La ricostruzione Al palo Per i buchi Normativi Lo Stato spende Milioni di euro Per gli sfollati Piuttosto che Accelerare le pratiche Su progetti E cantieri Edifici di tipo E Mancano ancora Le linee guida Per la ricostruzione Pesante Con il risultato Dell'inutile perdita Di tempo E poi Di spalla La cultura Premio Teramo All'ipogeo Il 4 maggio Con l'ospite Corrado Augias Le forzature Sull'operazione Casa dello studente I corvi Interni Dell'università Ricapitano Una lettera Alla città Con tutti i rilievi Mossi All'Azù Due idee Per riportare Le scuole Sfollate in centro L'architetto Luca Falconi Di Francesco Propone Il vecchio Stadio comunale E il regina Margherita E poi Una guerra fredda Sulle due stagioni Di prosa La CS Nuovo gestore Gestore del cineteatro Presenta i suoi appunti E chiede un confronto Con la Ricitelli E il sindaco Brucchi Prova a smorzare I toni Dice la competizione Non serve Studio e lavoro Opportunità In tutta Europa Al Milli Il primo incontro Dell'anno Indirizzato Agli studenti Delle superiori Di Europe Direct E Rete Eures Il PD Domani In corso De Michetti L'incontro De Circoli Via la prima fase Congressuale Andiamo avanti La provincia La piccola Diana Morta per un malore Del papà E' stata chiesta L'archiviazione Dell'inchiesta Sul tragico Incidente Di Basciano In cui Perse la vita La bimba La bimba Di nove anni Secondo le indagini Iscritti Al registro Degli indagati Il padre E' il camionista Con l'accusa Di omicidio Stradale Avvenuto il 4 agosto Dello scorso anno Quando l'auto Con la famiglia a bordo E' finita improvvisamente Contro un camion Lungo la statale 150 Nei pressi Temporanea In attesa Del nuovo bando Cronaca Allarme a Torricella Sicura Per la frana Lungo la provinciale 48 La segnalazione Di alcuni cittadini Che quotidianamente Percorrono La strada Che porta Verso Teramo Raduno degli alpini San Gabriele Pronto ad accogliere Le penne nere In 10.000 Provenienti Da tutta Italia Partecipano Al ricordo Dei caduti Della battaglia Di Selenigiar E poi A Campoli Tanti eventi Per la terza edizione Del Blue Day E' stato presentato Il programma Della tre giorni Farnese Dedicata all'autismo Un carabiniere Indagato Per favoreggiamento La procura Scava Nel giro Degli albanesi A Tortoreto La magistratura Chiede L'incidente Probatorio Per due stranieri L'accusa Secondo Gli inquirenti Il militare Avrebbe aiutato Alcuni spacciatori Ad evitare I controlli Sempre a Tortoreto Il candidato Marconi Vorrebbe una lista Senza la vecchia Politica E poi Il salinello Due furgoni Si ribaltano Sul viadotto Il traffico Va in tilt I mezzi Si sono toccati In fase di sorpasso Mentre procedevano Verso sud Scarica Barrile Sul verde pubblico Per i disastri Dell'amministrazione A Giulianova Tutti zitti Sul report Del Conal Per le interrogazioni Di Arboretti In consiglio Nessuna risposta All'amministrazione Comunale E' accusata Di non aver rispettato Le sue stesse regole E la politica Sinistra italiana Apre il dialogo Con Articolo 1 Franco Palumbo Taglia il traguardo Dei 70 anni Dalla consacrazione E poi Al liceo Curi Il convegno Ha illustrato L'applicazione Nei campi medici Sociali e industriali Le novità Della robotica Presentate Agli studenti A Roseto Partito Democratico Due consiglieri Di maggioranza Si schierano Con Andrè Orlando Peppe Di Sante Ed Emanuela Ferretti Si distinguono Dal sindaco Pro Renzi Articolo 1 Nessun ingresso Tra i banchi Della maggioranza All'interno Del movimento Articolo 1 A Silvi Il turismo Conterrà Anche l'elenco Delle manifestazioni E delle mostre Presenti In città L'app Dedicata Ad alberghi Ristoranti E svago Lanciata proprio Dal comune di Silvi Gli impianti sportivi Sistemati entro l'anno Sempre a Roseto La Sossore Tacchetti Fa il cronoprogramma Sugli interventi Di miglioramento Il pontile Pavone Non è mai stato Finanziato Dalla regione Perché chiedeva Sempre cifre Faraoniche E ancora A Roseto Il piano antenne Non tiene conto Della salute Dei cittadini A Pineto Sull'abusivismo Ancora promesse Non mantenute Commercianti Albergatori Balneatori Agenzie turistiche Attaccano L'amministrazione Cultura Scrivo Con la disciplina Del dolore Il romanzo Donatella Di Pietrantonio Domani a Teramo Con l'Arminuta E poi La scoperta Nella storia Dell'arte Tra Teramo E Penne Due dipinti Gemelli Fu Vincenzo Maria Ronsi L'autore Delle tempere Del regina Margherita E del convento Dei carmelitani Lo sport Il teramo Prove tecniche Per Mantova C'è Carraro Il trequartista Padovano Potrebbe essere una mossa sorpresa Problemi per i Lombardi Ancora fuori Matteo Guazzo Il modulo confermato Ugolotti sta lavorando A porte chiuse Molto probabile Però che venga riproposto Il 4-2-3-1 Di domenica La ricerca Della concentrazione La formazione Biancorossa Sta svolgendo Le sedute di allenamento A porte chiuse Domenica pomeriggio Impegno delicato Da cui potrebbero passare I destini Delle due squadre E ora andiamo ad aprire La pagina dello sport Anche sul quotidiano Il centro Si parte con la serie Ai figli di Zeman E l'Italia Sembra il Pescara Verratti Immobile Insigne Di nuovo insieme Dopo la promozione Del 2012 Dal Biancoazzurro All'Azzurro Dopo quasi 5 anni Ventura Riunisce i gioielli Lanciati dal Boemo In una delle stagioni Più belle Per i tifosi Del Delfino E poi Stendardo Dice io Non molla Pescara Anche in serie B Parola all'avvocato Biancoazzurro L'annuncio del difensore O il contratto E tante motivazioni Il resto Con Zeman I risultati Influiscono Sul morale Ma i tanti infortuni Ci hanno condizionato E poi L'aggressione a Taranto Lì c'è anche Mio fratello Ed è assurdo Quanto accaduto Nella mia carriera Ho superato i miei sogni Ora spero di chiuderla Con questa maglia Ovviamente In serie A E poi Zeman Leggero Sempre dedicata allo sport Pescara Caccialbomber Il club Biancoazzurro Sonde il mercato Per la prossima stagione Favilli e Iemmello I due profili Seguiti Con maggiore interesse Tra i giocatori In uscita Biraghi Può finire All'Udinese Mentre l'Atalanta Pensa anche a Zampano Per il dopo Conti Brugman Brugman Memusciai Offerte da valutare Il Lega Pro Piacciano Donna Rumma Del Mantua Iapichino Del Siena E di spalla L'Aquila E ha rispinto Il ricorso Per il campo In serie D Il basket La 2 E gli Sharks Rinnovo Biennale Per Di Paolo Antonio E intanto Il club Ha presentato Il piano triennale Sta provando A coinvolgere Nuovi Imprenditori Il Pescara Contro Imola Servono i calci Di rigore Il calcio a 5 Nemmeno i supplementari Sbloccano il risultato Di parità Le parate di Capuozzo E Pietrangelo Valgono la semifinale E' stato più sofferto Del previsto Il successo Finito 3 a 2 De Biancoazzurri Che adesso Sfidano Ferrara E allora con lo sport Come sempre Noi concludiamo La nostra rassegna stampa Prima di salutarci Ricordiamo che L'appuntamento Con le informazioni Del TG6 Arriva nella prima edizione Alle 14 E invece la rassegna stampa Di mattino 6 Torna puntuale Domani mattina Alle 7 Buona giornata Buona giornata Buona giornata Grazie a tutti